Ciao a tutti invece bentornati e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 days to die the survival of the crafting game come al solito io sono Avoro Sciridale, benvenuto in questo nuovissimo video di questo gioco eccezionale nella scorsa puntata abbiamo iniziato a fare un piccolo impiantino elettrico giusto, diciamo quasi un mezzo tutorial però in questa puntata dobbiamo andare avanti con quello e con tante altre cose per rendere la nostra base sempre più cazzuta e sempre più resistente detto questo vi ricordo di supportare il canale, supportatele con un bel mi piace, un like, un commento, una condivisione esiste la pagina Instagram che potete andare a seguire, esiste la pagina Facebook, idem potete andare a seguirle ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella e gruppo Telegram in descrizione detto questo amici direi che ci vediamo subitissimo, subitissimo, in 7 days to die, in game ed eccoci in game amici, sto tornando dal trade perché ho completato una missione, off camera l'ho fatta tanto sono le solite cose e il nostro trader, Jules, il nostro trade, però amici prima di tutto andiamo nelle skill perché? perché nelle skill abbiamo visto anche nella scorsa puntata come si possa aumentare un po' anche lo scambio con il trade ed è una cosa che ovviamente ci serve, ci serve per andare avanti nel gioco abbiamo 5 punti grazie a questa missione offline e un bel po' di zombie che ho segato quindi molto bene possiamo spenderli ed ecco qua il punto, Peter Barter appunto, che possiamo farlo salire al livello 3 ci sblocca anche la possibilità eventualmente di trovare dei secret trash interessanti quindi in teoria potremmo fare un altro punto per essere sicuri, così abbiamo 3 punti e in più una cosa che volevo spendere dei punti che secondo me possono essere utili è questo pain tolerance, cioè la resistenza ovviamente al dolore possiamo aumentarla ancora, vedete che riduce l'HP perso del 5% e il 20% less change to get stunned quindi possiamo aumentarlo ancora di 1 vedete c'è il simbolo del pugile proprio perché i colpi ci fanno meno male i colpi che prendiamo ma andiamo dal trade e a questo punto non so se i livelli sbloccati per il trade siano subito fattibili ma sicuramente il nostro trader Joel assolutissimamente prendo questo xp12005 vai ok vediamo se ha altri lavori c'è un clear zombie va benissimo, l'accettiamo intanto andiamo avanti abbiamo sperato un ulteriore livello siamo al livello 78 amici 2 punti skill da spendere ora andiamo a vedere però se nel suo inventario magari c'è qualcosa di interessante ad esempio qui vedete che compaiono delle cose molto interessanti che prima non c'erano allora il nostro Baker non c'è ancora però ci sono nuove cose perché lo sblocco di quei livelli lì ci permette di trovare cose più interessanti tipo il motion sensor che avevamo già trovato però è importante per ovviamente la blade ecco il rilevatore l'avevamo fatto anche nell'alfa 16 lo rifaremo anche in questa alfa qua un po' alla volta andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante magari per ora non vedo niente cioè ci sono cose interessanti in realtà ma non cose che sono cioè ci servono subito non ci sono cose vedete che ci servono subito sono tutte cose che stiamo progredendo nel gioco man mano quindi anche lo scope 4x mi pare di averlo trovato quindi giusto per farvi vedere avete visto che anche nel trade aumentando il livello abbiamo la possibilità di trovare nuovi oggetti bisognerà aumentarlo fino al massimo anche perché così possiamo trovare le cose più rare che ci vendono tipo il baker e nella nostra base sto cominciando a fare degli switch perché amici? perché? allora voglio organizzare ovviamente bene la nostra base infatti se vedete non c'è più una mazza di quello che avevamo fatto prima se non la lampadina qui che tra l'altro forse posso anche prendere sì forse è meglio piazzarla un po' meglio la scorsa puntata era giusto un tutorial però non che cambieremo di tanto le cose ma le cambieremo ed è rimasto solo questo che non so se forse sì non posso prenderlo mi sa oppure sì l'ha preso sì benissimo praticamente possiamo recuperare tutto e tutto ciò è fantastico allora iniziando dagli switch io volevo mettere gli switch praticamente qua così in questa maniera qua metterne tipo uno qua uno qua uno qua uno qua e ovviamente uno qua allora ogni switch ovviamente avrà una sua funzione quindi alcuni serviranno per alcune cose altri per altre ma sostanzialmente così dividiamo un po' quello che è il quadro e andiamo a vedere come li andremo a utilizzare prendiamo legno e chiodi che ci servono perché sapete che voglio mantenere una certa rigorosità vi faccio vedere una cosa è anteprima decorazioni o robe varie forse era era qui decorazione l'avevo visto qui no forse forse qua però l'avevo visto vediamo se vude insegna quello che dobbiamo fare guardate 4x4 track e girocottero iniziano a essere ovviamente presenti comunque dobbiamo fare il signe il signe è il cartello proviamo a farne uno piccolo che secondo me ci servirà quello piccolo e il vude insegne piccolo andiamo a vedere sì assolutissimamente sì è questo allora vude insegne piccolo che possiamo anche scriverci ovviamente possiamo cancellare scriverci quindi ne dobbiamo fare ben 4 per ora di vude insegne perché ogni interruttore ovviamente avrà come vi ho detto la sua il suo uso e voglio ben distinguerli poi non è detto che siano 5 magari saranno 6 però vediamo un po' di organizzare bene quello che stiamo facendo allora vude insegne anche qui ovviamente anche qui anche qui e ovviamente anche qui perfetto e a questo punto dobbiamo iniziare a suddividerli allora dicendo che qua non ho ancora sistemato ma dovrò farlo e supponendo che da questa parte qua e qua si facciamo una supposizione mettiamo le fence elettrificate elettr schiamo elettr e non scriviamo tutto dietro schiamo dietro per indicare appunto che questo interruttore servirà per attivare le fence elettrificate dietro qua potremmo mettere fence elettr elettr davanti ok quindi fence elettr davanti fence elettr e mi sono dimenticato un punto dietro ok così così dietro quindi questo sarà l'interruttore avanti questo indietro supponendo anche che ci siano delle luci dietro a questo punto qua scriviamo luci dietro perfetto e supponendo ovviamente che qua ci siano delle luci ovviamente davanti e a questo punto questo qua io metterei luci interne che è un po' quello che abbiamo fatto nella scorsa puntata cioè delle luci interne quindi qua inizieremo magari a tirare il cavo per mettere la luce qua e magari qualche altra luce in giro che non sarebbe poi tanto male farlo quindi diciamo che le luci interne ma ora è dove mettiamo il motore allora il motore quindi il nostro generator bank è possibile metterlo anche sotto qua in realtà però sotto fa un po' schifo cioè perché il cavo dovrebbe andare sopra c'è un po' una una schifezza l'idea potrebbe essere magari quella di bucare da questa parte qua qua c'è un altro cesso con un maiale dentro mamma mia qua c'è un altro cesso col maiale dentro potrebbe essere l'idea di bucare qua oppure dire no vabbè continuiamo qua lo mettiamo da qualche parte qua magari dalla parte di qua potrebbe essere una soluzione anche perché no cioè metterlo dalla parte di qua non sarebbe poi tanto male il fatto è che i cavi viaggerebbero un po' lì un po' lì un po' cioè bisogna capire dove metterlo sinceramente potremmo anche appenderlo eh cioè tipo fare appenderlo qua così eccolo tipo così potremmo anche fare sto lavoro e magari tutto sommato ok se non lancio magari il caso tutto sommato potrebbe essere anche un non è un lavoro bellissimo però insomma potrebbe potrebbe anche piacere eventualmente proviamo a fare un ragionamento così allora passiamo sotto non c'è problema qua ci sarebbero i cavi poi possiamo aggiungere ovviamente altri motori eh si intende quindi mettiamo il primo motore ecco una delle cose vedete che mi ha ridato ovviamente quando l'ho tirato su anche eh ovviamente il vorrei fare un buco per fare tipo uno sfiatòio è vero che non c'entra che non muori di gas però è giusto per tenere una certa linea vedete che stavo dicendo mi ha ridato ovviamente il fuel quello che è il gas quello che è la benzina il diesel non so che il diavolo ci va dentro ma qualcosa ci va dentro ora mettiamoci qua due belle batterie nostre e a questo punto con il wired tool nostro possiamo tranquillamente collegare questo a questo e il cavo direi che va abbastanza bene e poi a questo punto questo a tutti questi quindi fare una sorta di collegamento qua vedete come escono i cavi e poi da questi qui collegheremo gli altri vedete che non è bellissima come roba però i cavi qua in 7 days to die cioè li hanno aggiunti ma non è che li hanno fatti propriamente bene quindi è un po' una schifezza ora prendiamo un nostro wired relay per andarlo magari a mettere in un punto strategico della casa potrebbe essere questo potrebbe essere anche questo qua così però io vorrei magari metterlo qua così secondo me qua esce un po' meglio anche perché porte qua non ne servono le metteremo una qua quindi in realtà potrebbe andare bene luci interne quindi da qua colleghiamo il cavo che va al nostro wired relay ripeto possiamo attaccare direttamente la lampadina però io vorrei avere questo wired relay che poi magari mi spara in effetti si mi dovrebbe sparare la luce in altre parti quindi forse è il caso che il wired relay lo mettiamo all'interno di questa stanza cioè tipo qua potrebbe essere la soluzione il centro più o meno è qua la lampadina potremmo metterla qua e quindi a questo punto tirare un cavo non con la wrench ma con il wired tool che me lo mette sempre ovunque meno dove mi serve quindi luce interne lo mettiamo qua potremmo attaccarlo direttamente qua ma questo qua ci servirà anche per portare la luce da altre parti della casa e lo mettiamo no non mi piace non mi piace è meglio invertirli si adesso è molto meglio allora luce interne tac tac le ho messo ovviamente qua perché così posso portare la corrente anche di là senza perdere almeno niente e qua perfetto vediamo se funziona tutto attacchiamo ovviamente questo attacchiamo ovviamente questo luci interne e si accendono vedete così abbiamo uno switch poi possiamo usare anche gli altri man mano li collegheremo cioè in realtà dobbiamo già iniziare a lavorarci ora un altro degli switch che mi è venuto in mente di fare ovviamente è quello che riguarda le blade trap perché anche le blade trap vogliono le loro ovviamente che sono quelle per fare ragù di zombie vogliono anche quelle il loro interruttore quindi davanti e dietro però le vorrei mettere magari da questa parte qua cioè suddividerle un attimo intanto vi faccio vedere la nostra base come sta andando avanti orto lì non abbiamo non ho ancora capito cosa ci metterò probabilmente lì dove c'è la cosa di grace farò un'altra torre non lo so vedo di capire dobbiamo finire anche la torre lì bisogna trovare sto cavolo di baker per fare i coloranti anche se ne abbiamo alcuni però insomma bisogna fare ancora un bel po' di cose una cosa che vorrei fare subito è sicuramente oltre alle fence vorrei fare magari uno spotlight o comunque due spotlight cioè questi raggi luminosi che ci permettono di ovviamente illuminare per fare lo spotlight serve led light che ne abbiamo ben 42 quindi ne abbiamo veramente un fottio dopodiché ci serve gli electrical parts che li abbiamo forged iron e duct tape non forged steel ma questi qua anzi iron e duct tape esatto bene e lo spotlight credo che lo possiamo fare abbastanza qui sì perfetto iniziamo a farne uno anzi facciamone ben due visto che comunque ci servono qua stavo andando a fare del ovviamente altro forged iron che comunque ci serve con l'elettricità si fanno fuori veramente un fottio ma uno stramega fottio di risorse quindi bisogna assolutissimamente stare attenti e fare quelli giusti dunque allora dove ne mettiamo uno cavolo uno mi piacerebbe metterlo sopra lì il problema sopra lì è illuminare magari una zona oppure iniziamo dal davanti oppure iniziamo mettendola una qua e una davanti tipo anche qua non so se riusciamo vedete com'è la spotlight potremmo metterla così ma forse la ringhiera ci rompe abbastanza quindi quasi quasi conviene fare un pillar di frame e poi piazzarla qui secondo me è la cosa migliore più che altro ci cioè ci rompe anche di meno fare il pillar e ovviamente metterla qua ad esempio il pillarone magari farlo qui non sarebbe male qua magari qua non sarebbe male se riusciamo a farlo bel pillarone quello più alto adesso cade tutto se non sto attento abbiamo il martellino sì abbiamo il nostro bel martellino andiamo a dargli una martellata vai 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 col pillarone così perché crea più è più bello il pillarone così dai su via è più bello doppio poi lo andremo anche a colorare appena riusciamo a fare la chemistry station andiamo davanti a questo anzi davanti sopra in realtà anche qua la cucina preparatevi perché la cucina voglio renderla qualcosa di bella e qua andiamo anche oltre a fare le cose bene andiamo a fare le cose anche belle ora non serve altissimo questo coso qui perché abbiamo visto come alto rischiamo praticamente di fare una schifezza nel senso che non illumina bene e andiamo a collegarlo allora abbiamo luci dietro a questo punto piccolo trucchetto che vi do è di attaccare il cavo andare indietro il cavo tirerà fin quando diventa rosso almeno così eccolo qua quindi conviene quasi quasi mettere qua questo qua se rimane attaccato però non rimane bene attaccato bisogna metterlo mi sa qua tiriamo il cavo luci dietro tac eccolo qui e poi da qui lo tiriamo qua se ci arriva perfetto 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 a questo punto attiviamo tutto poi ovviamente quando avremo il pallello solare che ce lo vende il trade attenzione quindi ce lo vende assolutamente il trade attiviamo qua vedete che si accende e si spegne ma in più ovviamente possiamo anche dirgli dove puntare però mi sa che devo finirci sopra questa idea qua forse vedete si accende e si spegne e funziona tranquillamente il comando qua eccolo qua non me lo fa ruotare ah eccolo qua ok vedete che questo è il nostro personaggio noi possiamo scegliere un'area da fare illuminare tipo io farei illuminare questa così in maniera tale che lui illumina quell'area lì ora giorno non si vede però sto anche cadendo riuscirò a salire secondo voi senza si perfetto e vedete che un'area l'abbiamo illuminata facciamo lo stesso lavoro magari a questo punto davanti e il bel pillarone ho deciso di metterlo qui secondo me qua è il posto ideale per fare il pillarone ora andiamo a ottimizzarlo mentre ci saltiamo sopra e facciamo due lavori in uno non è male ed evitiamo che cade e anche qui facciamo la stessa cosa bisogna ovviamente tirare il filo anche qui vediamo quanto ci manca se ancora forse due o tre e così abbiamo fatto un primo principio di illuminazione poi però dobbiamo fare anche altre cosunce interessanti nelle prossime puntate quali le fence e quali ovviamente ma qua neanche ve lo sto a dire voglio il ragù di zombie voglio il fottuto ragù di zombie ora io l'ho messa qua perché c'è Eva vogliamo farla girare in qualche maniera ah sì bisogna aumentarla credo che si possa girare spero che se no l'abbiamo mandato a farsi fottere questa luce qua però credo di sì allora entriamo diciamo possiamo entrare da qua possiamo entrare ma ci sono le finestre non voglio romperle c'è un'entrata di qua no dobbiamo fare il giro bisogna aprirci un'entrata un pelo più comoda perché altrimenti dobbiamo fare sempre un giro del cavolo e quindi bisogna assolutamente anche migliorare qua il maiale nella doccia è qualcosa di eccezionale e qua bisogna fare le porte amici lo so allora luci davanti tac e andiamo a vedere dove possiamo tirare tranquillamente il nostro cavo quindi fino a qua sicuramente quindi mettiamo un wired relay al muro qua direi va benissimo si dovrebbe vedere anche meno il filo vero ok vedete che fino a qua arriva vediamo se da qua a questo punto riusciamo a portarlo qua più o meno più o meno qua quindi mettiamolo qui che lì servirebbero i cartelli dei relay dobbiamo fare un altro relay sicuramente uno almeno due o addirittura electric wire relay o addirittura vabbè ci sono già tirati su sì o addirittura comprarli secondo me comprarli ci costa meno in risorse perché vedete che qua stiamo utilizzando gli electrical parts che non ne abbiamo tantissimi quindi parte dei soldi che abbiamo preso che abbiamo guadagnato in tutte queste puntate dobbiamo usarli sia per comprare materiale elettrico oppure per comprare direttamente i pezzi che ci servono per costruire le cose per craftare le cose insomma bisogna un po' fare di necessità virtù come si usò al dire fra qua dove arriva no qui quindi possiamo attaccarlo qua rifare il giro della casa devo trovare assolutissimo cioè devo aprire sicuramente una porta e bisogna spendere una barra più puntate per iniziare a fare delle cose interessanti a livello di anzi innanzitutto già accendo male non fa tanto male non può fargli luci davanti vai attacchiamo qua arriviamo qua mettiamolo qua là perfetto a questo punto da qua sicuramente non credo che arrivi qua e invece ci arriva ci arriva ma tutto ciò è fantastico e ora scopriremo se non abbiamo buttato via delle risorse perché in teoria si dovrebbe girare il maledetto qui eh sì il problema è che si gira solo così e noi siamo non vicinissimi al lane block quindi non l'abbiamo buttato via perché faremo due pillar uno che punta qua io voglio proprio avere luce intorno e uno lo metteremo da questa parte qua ora senza sbagliare andiamo a posizionare direi da questa parte così perfetto sarà da fare anche di là probabilmente un lavoro così quindi l'errore c'è tra virgolette è andato bene per verificare un'ulteriore condizione ola e anche di qua ovviamente possiamo andare qui dentro qui e degli di illuminare questa zona qui facciamo per ora questa perfetto molto molto bene vedete che stanno iniziano ad arrivare un po' ai cavi poi purtroppo non c'è un metodo per sistemarli meglio insomma cavo che passa di lì va dentro di lì che va dentro di qua che va su di qua che va da questa parte accendiamo le luci dietro e le luci interne vediamo quant'è il consumo siamo a un 25 watt di consumo che vuol dire metà del max output che abbiamo con un motore ovviamente qua rimangono accese perché abbiamo anche la nostra battery bank anche questa 25 vedete ottimo quindi adesso possiamo accendere luci dentro luci indistintamente quindi vogliamo la luce dentro luce dentro vogliamo le luci fuori due davanti le abbiamo ne abbiamo solo una dietro ma un'altra andrà messa da questa parte qua quindi tirando i cavi e man mano nelle puntate lo faremo fino ovviamente ad arrivare a costruire le fence e le blade trap siamo al giorno 25 quindi tre giorni alla luna rossa non sono molti quindi vedremo come ci arriviamo e con che soluzioni ma detto questo amici vi ricordo di supportare il canale con un bel mi piace un like un commento una condizione un canale che non prende neanche un euro detto questo vi dico davanti a questo bellissimo impiantino che è tutto e ci vediamo nel prossimo fottuto video da Amorice tutto ciao e al prossimo appunto fottuto video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti